Bellissima esibizione di questo scafo storico, Celli BPM 8000, un'imbalcazione che è stata di Antonio Petrobelli, Petrobelli con questo scafo ha vinto ininterrottamente diversi trofei due ponti, ha vinto anche la Pavia Venezia in diverse edizioni. A condurre questa imbalcazione il figlio Pietro, sentite il poderoso rompo del BPM 8000, tutta la potenza del poderoso BPM 8000, 8 cilindri a V, di questo bellissimo scafo Celli, imbalcazione del 1974. Grazie a tutti. Potete ammirare la bellezza di questo raccher, velocissimo Pietro Petrobelli con imbalcazione che fu del padre Antonio, questo racconto è un grande... 8000 di cilindrata...